Lunedì 30 settembre, su Canale 5 sta andando in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Tra le protagoniste indiscusse c'è Elena Prestes, modella brasiliana che già ha partecipato a diversi programmi TV. Ma mai si era aperta in questa maniera, rivelando alcuni episodi molto delicati della propria vita. La sua famiglia, infatti, non è mai stata una famiglia veramente felice. Il padre aveva problemi con l'alcol. Un grande problema per il quale la mamma ha deciso di separarsi, era distrutta perché era innamoratissima. Presto, a 16 anni, Elena è andata via di casa. La drammatica storia di Elena In un contesto familiare così difficile, l'unica maniera per reagire era questa. Io a casa ero sempre quella che faceva battute e ballava. Vivevo nella periferia di San Paolo, le parole di Elena, che poi ha aggiunto, a 16 anni ho lasciato casa, sono andata in Cile a fare la modella. Mia mamma era già uscita di casa, si era separata e aveva aperto un ristorante nel sud del Cile. Ho cercato un'agenzia lì e ce l'ho fatta. Da quel momento tutto è cambiato, poi sono venuta in Italia a 23 anni. Dopo un contratto a New York sono venuta in Italia perché si mangiava bene. Quindi l'arrivo in Italia, la moda qui è seria, ci ho messo tanto tempo per farmi conoscere. Vendevo i miei capelli per pagare l'affitto. Ho tante storie da raccontare ma non voglio pretendere, quando mi vogliono ascoltare, io parlo. Parlando della mamma, ha rivelato amaramente, non so più dove sia mia madre, l'ho vista due Natali fa, ma non sento più nessuno. Lei non vuole più parlare con nessuno. Mia madre non so dove sta, cosa fa, se è malata, a volte penso se è morta. Vi giuro. Lei mi ha mandato qualcosa. Con me è stato un po' così. Quando ho finito un'esperienza in tv e le ho detto che sono innamorata e che volevo vivere solo in Italia senza inviarle tanti soldi. Forse non le piaceva questo ragazzo. Questa è una cosa molto personale però è così. Abbiamo litigato. Infine ha concluso, sono andata a cercarla in Brasile, ma non mi ha neanche risposto. Lorenzo corre ad abbracciarla. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.